Come ti chiami e quanti anni hai? Sono Roberto D'Amico e ho ben compagno. Dove vieni? Da Disco. Da quanti anni sei? Ho cominciato all'età di 8 anni, quindi 20 anni. Cosa ti è piaciuto di più di questo training? Cosa mi è piaciuto di questo training? L'intensità e la serietà e l'organizzazione con cui è stata affrontata ogni giornata. Cosa ti è piaciuto di meno? Il caldo. Ma il colonnello è davvero sicuro? Il colonnello devi seguirlo bene. Se sbagli, meglio non sbagliare. Puoi andare e andiamo? Voglio andare. E ci andrai? Credo che ci vedrò, voglio andare, ci so se. Cosa pensi dell'Unipiadi? L'Unipiadi è sicuramente un qualcosa in più che è arrivata nel surf. E sarà solamente uno step che farà diventare noi surfisti per gli atleti. Chi è il più bravo? Secondo te, dai se stessi consigli? Leonardo Piramanti. E qui nel Salvador? Puoi dire anche io. Nel Salvador? Queste due onde sono grosse e potenti io. Altrimenti mi dico leader monumentale. Il compagno con cui è arrivato qui. Doppio nome. Angelo Ramono. Ero. Diego. Giada Ero. Di qualcosa? A chi ci siete da casa? Ragazzi, seguiteci. Noi, voi siete la nostra forza. Quindi appoggiateci. La cosa più importante a dire? Forza Italia! E tagli!